Saranno 30 e non più 9 gli anni di concessione che il Comune di Trieste potrà accordare alle società sportive interessate agli impianti di proprietà comunale, come campi di calcio, palestre e piscine, a fronte dell'impegno alla manutenzione straordinaria, all'ampliamento e al rinnovamento delle strutture. Il contenuto della delibera presentata dall'assessore Giorgi in Cassa Lockei dell'Aula diventa così operativa. È una svolta epocale perché adesso le società sportive che gestiscono per noi gli impianti possono investire sull'impianto stesso. E a seconda della tipologia dell'investimento, di che ricaduta ha per i propri ragazzi, per i giovani e per la città e qual è l'impegno finanziario, noi potremmo portare queste concessioni fino a 30 anni. Diamo quindi possibilità a chi lavora nello sport, a chi opera ogni giorno per i nostri ragazzi, di investire e fare in maniera che gli impianti siano più accoglienti e più moderni. Tra le altre novità c'è anche l'attribuzione al concessionario delle spese di acqua, luce e gas, salvo la possibilità di chiedere al Comune un contributo delle spese. Alla base del documento c'è la volontà di mettere le società sportive nella condizione di poter pianificare gli interventi desiderati nel corso di un lungo tempo, in modo da potersi rivolgere con criteri più solidi agli istituti di credito e lavorare, con un margine di tempo più ampio, all'ammortizzazione degli investimenti. Il Comune inoltre si libera da una serie di spese che al momento non potrebbe garantire, vedendo però mantenuti a dovere i propri impianti. Il contro di questa situazione a detta di qualcuno è la parziale perdita di controllo sui propri beni, che con 30 anni di concessione saranno vincolati maggiormente a determinate società.